bentornati raga qua è samix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale se sei nuovo nel canale se è capitato in questo video se è capitato in un video particolare in questo video non si parla di gta ma farò un gameplay assurdo di crash il primo gameplay dopodiché ragazzi come ho già detto nel video precedente che lascio in descrizione se ve lo siete perso inizierò a fare le live su twitch ragazzi 5 giorni su 7 almeno un'ora al giorno e cercherò di portarvi gameplay spiegherò glitch di gta quindi testerò i glitch cercheremo di capire cos'è che non va cos'è che va cercheremo di trovarne altri e quindi faremo tanti nuovi format quindi non ci incischiamo e vi lascio al video bella raga buona visione mamma mia raga tanta roba sta cosa Vedremo che cazzo succede Allora intanto voglio iniziare questo video Dicendo che questo è stato il gioco della mia infanzia E niente Perché non proporvelo, non portarvelo sul canale Mentre mi rifaccio tutta la trilogia Ragazzi, quindi sarà una lunga serie Primo, secondo e terzo Crash, tutti e tre li faremo Poi li rifaremo tutti per prendere tutte le varie gemme Tutti i vari cristalli per finire al massimo ragazzi Quindi possiamo iniziare con la serie Tante bestiemi e spaccherò forse qualcosa, non lo so Andiamo avanti Bella raga Allora ragazzi, qua Dovevamo partire dal primo Raga, questo è il due E questo è il tre Raga, è pazzesco Cioè, ci ho perso la vita da bambino dietro a sta roba Sono felice come un bambino Con il giocattolo nuovo Cioè, veramente, sono emozionato Iniziamo Ah, io c'ho male qua Oddio, sto male No, vabbè Ehi, non me lo ricordo Per me è un gioco nuovo Non me la ricordavo sta cosa dell'inizio del gioco Dell'uno Cioè, ma guardate che cazzo di giochi C'erano una volta Che bomba I video Pazzeschi Fatti benissimo Raga Calcoliamo che comunque sia Sono anche Cioè, non li stiamo vedendo in un'altra risoluzione Effettivamente, eh Perché non era proprio così, eh Però che ricordi Che ricordi Oh mio Dio Allora Salto Rotondo Quadrato Ok Che quadrato Io ormai gioco da Xbox Quadrato è X Raga È X Non è quadrato Poi abbiamo Triangolo Che è Y Vedi Mi viene naturale chiamarli con i tasti originali Allora Triangolo Abbiamo la leggenda Ma raga Ma guardate la vela Che bella E poi Gli analogici Oppure con le freccette Poi abbiamo RB Che è R1 Niente 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 Quindi Io direi Prendiamo subito la vita Allora Per saltare Ah c'è il tutorial L'analogico di destra Non serve a nulla Quindi Via Ok Minchia raga Io sto male Mele 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 Qua Minchia Qua salta Ok E tu Tu Via 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 Qua c'è qualcosa Secondo me No No Ho perso Il Bud Gapai Or La 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 No Dama C'è raga Non so Se giocare Con le freccette Direzionali O giocare Con analogico Mi sa che userò Le freccette Perché Una volta Non c'era Quindi noi dobbiamo Ho preso il check Mamma mia Ok Budga 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 Via Allora Qua Non dobbiamo Oh Sali Non sali Io Voglio Prenderle Tutte Me lo Ricordavo Me lo Ricordavo Me lo Ricordavo Ma che Bomba Raga Sono Gasatissimo Cioè Ok Ok Perché Mi ricordo Che se Le prendiamo Tutte Così Ce ne dava Di più Guardate Che bello Il Budga Allora Sinistra Destra Sinistra Sinistra Allora Là c'è qualcosa Ma quella è la fine del quadro Mi sa E se noi torniamo indietro da suo lato Vaffanculo Bastardo True moon Mi dice Mars No Oino Pro Vai Iniziamo La prima bestemmia Su Crash L'abbiamo tirata Quindi bisogna andare di là Per forza Allora Sapevo che c'era L'inghippo Qua Ok Così fa Così Minchia Uno l'ho saltato No Mi Non Alle Ho Visto Ma Vaffanculo Ho preso l'obiettivo Fanculo Ma non mi ha dato il cazzo Volevo prendere tutte le mele Io Regà Qua C'è Oh Ma secondo me Vai usare la leva Analogico Perché Sto esaurendo Con le freccette Allora Ritorniamo Qua dobbiamo fare Un passetto Alla volta Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Wow Ce l'abbiamo fatta Ho perso sedici vite Per fare quel pezzo Ma ce l'abbiamo fatta Ok Quindi questa Un po' di mele E via Primo livello superato Ragazzi Non cazzatissimo Allora Vediamo un po' Cosa Manca Premia per continuare Allora Qua Il primo livello Story Accetto Mi sa che Questo è il secondo Quindi Questo è quello Che abbiamo appena fatto Infatti Ce la posso fare Viola Quindi suppongo Che è da fare questo Perché questa Era la intro Chiamiamola così Allora Qua infatti Abbiamo il tempo Qua le cose Si iniziano a fare Bastarde Allora Vediamo un po' Vediamo Prima tutte le mele Timing Tempo Non ce ne fega un cazzo Noi di questo Noi dobbiamo arrivare in cima Subito Il tempo 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 Lo prendiamo noi così Ce la facciamo No Non ho preso il budga Meno male che ne avevo ancora uno Vai Dai 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 Via 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 Vai 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 Salta Bastardo Non ho preso il tempo Però qua Mi ricordo È più veloce Perché non c'è Robaccia qua Oh Bastardo Guarda che Bastardo 49 secondi Ce l'ho fatta? 49 Xavi Allora Vuoi arrivare la prova a tempo? No Va bene così Voglio capire un attimo Quale Come funziona Con i tempi Raga Non fate come me Non fumate Che fa male Io non ho ancora capito Se devo fare il primo L'ultimo Cioè Non ci sto capendo un cazzo Mostra il tempo obiettivo E quanto ci hanno messo? Cosa? Allora Proviamo intanto a vedere qua Qui Allora ci sarà una missione Oh Vediamo Non me lo ricordo Raga Io penso di non averlo mai fatto Mi ricordo Mi ricordo Ero un bambino Del cazzo Qua? Non so perché Ma mi sento di finire di sotto Io troppo Oh Pezzo di me Che sballo Raga Ma siamo Ma voi vi rendete conto Che questo È Oh È un gioco del Oh È un gioco del Di quando Non so Di quanti anni fa C'era la play 1 Raga Cioè Oh 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 Che culo Ho preso la faccina del cazzo del tipo Oh Allora Allora Là c'è una punta Quindi Un salto Sapevo io che la prendevo Figurati se Oh Grazie Mi dà la vita Fammi pigliare le uova qua Le mele Quindi Così 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 Ok 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 Ci siamo Raga Questo Oh 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 Ma che fa Quello No Ai L'ho arrivato Sopra Finché non Muoio Finché non perdo le vite È tutto bene Sì Qua La vedo Malissimo Raga Malissimo C'ho le mani che mi sudano 2 3 1 2 3 Oh Moon Checkpoint Oh Sto per morire Un infarto Cos'è Quello a fare Questo uccellaccio Mi fa danno Non penso Ok C'è il checkpoint C'è il checkpoint Si cazzo Si cazzo Ok 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 C'è Ci siamo Ci siamo Tua madre Fa i pompi nazi Non ho più vite Come si fa A arrivare lì Se Certo che devo riprovare Il livello Che domande Di merda fai Non mi ricordo Un cazzo Ora capisco Perché mio padre Mi ha detto Minchia sale Lascia stare Eccoci qua ragazzi Se siete arrivati alla fine Di questo video Vi voglio bene davvero Vi ringrazio tanto Come avete visto Da metà video in poi La piega Il mio umore Ha esploso ragazzi E potrebbero succedere Grossi danni Giocando a questo gioco Potremmo farci veramente Derridere anche Quindi Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Ragazzi Supportatemi Perché editare questi video Ci vuole tempo E pazienza Anche se mi piace Lo farò a prescindere Se mi mettete like Ve l'ho già spiegato Per noi È importante Un abbraccio E Sbada bam Alla prossima ragazzi Bella Alla prossima ragazzi